Si chiamava Ares Beorchi, al 31enne morto ieri sera attorno alle 20 sulla strada nuova per Opicina all'altezza delle Beatitudini. Uno schianto violentissimo, quello tra la Fiat 600 e lo scooter di Ares. Da quello che sappiamo sulle dinamiche dell'incidente, il 31enne si è schiantato contro la Fiat che ha invaso la corsia opposta. Infatti il conducente della macchina, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo facendo testa coda e finendo nel lato di carreggiata dove viaggiava il ragazzo. Ares, che procedeva con il suo scooter, ha centrato in pieno l'automobile. Altri dettagli della ricostruzione dell'incidente devono essere ancora accertati. Pare che il ragazzo, residente a Trieste, sia morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. Frattura al femore, traume addominali e frattura alle vertebre e alla cervicale. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre hanno preso in cura il conducente della 600 che è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. In strada nuova per Opicina sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per procedere con i rilievi, assieme anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Quello di ieri sera è il secondo decesso di uno scooterista in pochi giorni. Venerdì scorso era morto il 51enne per l'incidente avvenuto in via dell'Istria.